Terra Amara. Queste anticipazioni vi terranno con il fiato sospeso. Mujeygan scoprirà la vera motivazione che nasconde Fikret. Inoltre scopriremo che durante un inseguimento in auto, Zuleya, verrà rapita. Sei pronta ad immergerti in queste fantastiche puntate di Terra Amara? Bene, iniziamo. A Istanbul, Zuleya capisce che forse Adnan aveva un motivo per cacciare la donna con il bambino. Forse voleva ingannare Sevda. Zuleya risponde che non lo sapranno mai, ma si sente troppo triste per restare lì e vuole tornare a casa. Mentre stanno andando via, Sevda ha un giramento di testa e dice a Zuleya che starà bene, anche se quel giorno ha finalmente conosciuto l'uomo che ha amato e per il quale ha smesso di essere una cantante, anche se non potrà mai dimenticarlo. Batyar, il cugino di Fikret, dopo aver letto la dichiarazione di Demir, raggiunge Fikret nel suo ufficio segreto e gli chiede se è figlio di Adnan Yaman, perché gli aveva detto solo che lui aveva rovinato il padre. Fikret gli risponde che non sapeva come dirglielo. Il cugino gli chiede cosa pensava di ottenere con quelle lettere e dove vuole arrivare. Fikret gli risponde che vuole che Demir dichiari pubblicamente che il padre era un uomo disonorevole e gli intima di non immischiarsi. Poi gli dice che ha allontanato Mushgan perché nella sua situazione di incertezza non può renderla felice e non vuole che soffra. Mushgan si reca a casa di Umit, ma rimane sorpresa nel non trovarlo. Incontra una donna di passaggio che le rivela che Umit è partito con Demir Yaman. Nel frattempo, Demir e Umit passeggiando per le vie di Antalya, discutono dei loro piani futuri. Demir informa Umit che Zuleya continuerà a vivere nella sua villa con Sevda e a portare avanti l'opera di sua madre, mentre loro due cercheranno un palazzo dove vivere temporaneamente, in attesa che la villa che intendono costruire sia pronta. Decidono che i bambini potranno stare sia con Zuleya che con loro, a seconda delle preferenze di lei. Umit rassicura Demir che il suo amore per lui è completo e sincero, e gli confida che è arrivata a Kukurova per sfuggire alle delusioni che ha subito in passato. Demir chiede se si tratta di una delusione amorosa, ma Umit risponde che non si era mai innamorata prima di conoscerlo, e che la sua vita era stata segnata dalla solitudine e dalla tristezza, focalizzata solo sul lavoro. Ora, invece, si sente forte e pronta a difendere il sentimento che Demir ha risvegliato in lei. Demir a sua volta afferma che Umit ha fatto nascere in lui un nuovo sentimento proprio quando aveva perso ogni speranza di essere amato, e ora vede un futuro luminoso. Umit assicura a Demir che è disposta a tutto per il loro amore, sia nei momenti di gioia che di dolore. Prima di continuare se il video è di tuo gradimento, lascia un mi piace e se vuoi essere sempre aggiornata scrivi, sì, sotto nei commenti, grazie di cuore. Nel frattempo, alla villa, Sermin si lamenta con Saniai per non essere stata avvertita che tutti sarebbero stati fuori quel fine settimana. Poco dopo, Zuleya e Sevda arrivano e Sermin le interroga con una serie di domande. Zuleya spiega che è tornata perché Sevda non si sentiva bene. Successivamente, Zuleya si allontana con Saniai e le racconta le notizie che ha appreso ad Istanbul, sottolineando che la donna che ha visto non può essere la moglie di uno dei loro lavoratori, altrimenti Ankar l'avrebbe licenziata e la notizia si sarebbe diffusa. Nel frattempo, Fekeli nota che Çetin sembra nervoso e gli chiede il motivo. Çetin gli confida di aver sentito la confessione di Fikret e si chiede cosa accadrà, poiché Demir non accetterà mai Fikret come suo fratello e si prepara ad affrontare la situazione. Fekeli risponde a Çetin dicendo che i problemi con la famiglia Yaman sembrano non finire mai. Çetin chiede se ci sarà del sangue versato, e Fekeli risponde che spera che Fikret prevalga con intelligenza e perdono, ma che la rabbia che ha dentro di sé potrebbe esplodere da un momento all'altro. Gli dice che è difficile per lui fermarlo perché Fikret sostiene che non sono parenti di sangue, ma Fekeli deve comunque cercare di farlo. Zuleya è in azienda e ha visionato gli atti di proprietà della famiglia, scoprendo che molti sono registrati a nome di Leila. Quando esce, vede Fikret a girarsi per i corridoi e prendere un quadro dalla parete, poi allontanarsi rapidamente. Zuleya cerca di raggiungerlo, ma non ci riesce e lui se ne va in macchina. Allora Zuleya lo segue con la sua auto e si addentrano in una strada che scorre attraverso un bosco. Fikret si accorge che lei lo sta seguendo e riesce a seminare Zuleya, addentrandosi in un sentiero nascosto. Poco dopo, Zuleya vede la macchina di Fikret ferma sul bordo della strada, ma lui non c'è. Lo cerca e lui, aggredendola alle spalle, le chiede perché lo stia seguendo. Nel frattempo, un ragazzo ruba l'auto di Zuleya che lei ha lasciato incustodita mentre cercava Fikret. In ospedale, Mushgan va a parlare con il cugino di Fikret e gli chiede qual è il problema di Fikret. Lui le risponde che non ne ha, ma lei gli fa notare l'incoerenza di ciò che ha detto e insiste con le domande. Allora Batyar le confida che Fikret ha preso pochi giorni prima che una sua ex fidanzata aveva tentato il suicidio, e ne è rimasto scioccato. La ragazza si è salvata e lui supererà presto la cosa. Mushgan se ne va perplessa e lui si lamenta di aver dovuto mentire per coprirlo. È tardi sera e Zuleya non è ancora tornata. Sermin, che è ancora alla villa, inizia a fare delle ricerche per trovarla, ma non riesce a trovarla. Allora Sermin ipotizza che l'uomo che scrive le lettere potrebbe averla rapita e che devono trovare Demira d'Ancara. Le anticipazioni terminano qua. Cosa ne pensi? Se vuoi rimanere aggiornata, commenta sotto il video, e riceverai tutte le anticipazioni in anteprima. Ciao a presto.